In arrivo dalla Fidelisandria, Luca Sasanelli, punta centrale del 2004, quest'anno 7 gol in D, c'è già l'accordo col giocatore sino al 30 giugno 2027, manca solo l'intesa con il club pugliese. Sasanelli andrà a ripiazzare Tommasini, ceduto in prestito al Monopoli. Nulla da fare dunque per Rijks dell'Utrecht, per la mezzala dell'Icarri sta scandagliando il mercato di B. In campionato, alle spalle, il K.O. profondamente ingiusto, da tutti riconosciuto, patito in casa con la Perugia. A prescindere dai difetti di fabbrica, pochi giocatori di ruolo, specie a centrocampo, gira male, non c'è dubbio. Lo confermano i numeri, due punti nelle ultime quattro gare. La vittoria manca dallo scorso 9 dicembre, 4-0 sull'Olbe all'Adriatico, quattro punti in meno rispetto alle prime due giornate di campionato. Zeman. Non ci ha messo sotto mai nessuno. Quello che abbiamo fatto abbiamo sbagliato noi. Monopoli non ce l'ho. Per me possono giocare tutti, ve lo dico dall'inizio. Dipende da come stanno e dall'avversario. Ora l'impegno di Arezzo che vive invece una situazione opposta. Tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro gare. Ottavo posto, niente male per una neopromossa, meno tre dal Pescara. Indisponibili per la Cani e a Cornero. Torna a disposizione Messi, ma molto probabilmente verrà confermato, aggiungiamo giustamente, Davide Di Pasquale. A centrocampo Zeman pensa al rilancio di Tugnov con squizzato play e il rientrante Aloy. Davanti fiducia a Vergani, dalle parole di Zeman, sembrerebbe proprio di sì. Dico che non bisogna vivere di impressione. Per me è un ottimo giocatore. Poiché non riesce a esprimere tutto quello che ha, è un altro discorso. Ecco dunque il probabile undici. Plizzari tre pali in difesa Floriani, Brosco, Di Pasquale e Moruzia. Centrocampo Aloy, Squizzato e Tugnov. Davanti Merola e Cangiano a supporto di Vergani. Arezzo privo dallo squalificato Gucci, capo cannoniere dell'undici toscano con otto gol. Il tecnico Paolo Indiani non ha alternative. Assai probabile Pattarello finto nove con Guccione alle spalle. Possibile undici, Trombini tre pali. In difesa il debutto di Francesco Donati, appena arrivato dall'Empoli ex Lecco e Ascoli. Centrali risaliti e Chiosa a sinistra Montini. Mavuli bianchi tandem di Mediani. Esterni Settembrini e Iori tra le linee Guccione. Ridosso di Pattarello, in realtà due trequartisti. Con le prestazioni che hanno fatto nelle ultime gare, se esci un zero punti è perché proprio non va. Anche l'ultimo è peruggiato, ma la sconfitta non ci stava assolutamente. Siamo in presenza di una grossa squadra, a livello tecnico forse la migliore. Ma una squadra buona, anche se noi all'andata, diciamo 2-0, sembrava che era tutto facile, ma invece non è stato facile perché abbiamo molato un po'. Speriamo di durare 90 minuti questa volta e che riusciamo a giocare quello che vogliamo. Pescara, Maicursaro ad Arezzo, nelle 11 sfide disputate in terra toscana, 6 pareggi e 5 K.O. Il ricordo a cui sono legatissimi i tifosi biancazzurri, 14 giugno 1987, penultima di Serie B. Si sta per materializzare un autentico sogno, la terza promozione in Serie A del Delfino, la prima di Giovanni Galeone. Una squadra allistita per la C, ripescata a spese del Palermo e assoluta protagonista del torneo cadetto con un calcio a dir poco spettacolare. Dunque profumo di Serie A al comunale di Arezzo più di 10.000 tifosi pescaresi. Emozioni a non finire. In avvio Gasperini scuote la traversa della porta di Orsi. I toscani rispondono con Ugolotti che sfiora il palo e due minuti più tardi lo stesso Ugolotti sblocca il punteggio. Colpo di testa che Gatt riesce solo a deviare. 1-0 Arezzo, gelo sugli spalti malgrado il gran caldo. Ugolotti va vicino al bis, sempre di testa, attraversa salvifica per i biancazzurri. Nel secondo tempo in evidenza Berlinghieri che per ben due volte impegna Orsi, quindi palo di De Rosa. Al ventesimo l'episodio che provoca tantissima tensione in curva nord. Gasperini ostacolato da Ermini in area toscana. L'arbitro internazionale Mattei di Macerata lascia proseguire. Cresce il malcontento, rete di recinzione abbattuta. Si tema il peggio, il coraggio del DS. Il compianto Enrico Alberti che invita alla calma i sostenitori biancazzurri. Nel frattempo il Pescara insiste, ci prova il neo entrato Gaudenzi. Poi ancora Gasperini, vero trascinatore. Orsi sembra insuperabile, ma sugli sviluppi del corner, minuto 73 di testa. Giorgio Benigni infila l'estremo toscano, 1-1. La settimana successiva, apoteosi all'Adriatico, il parma di Arrigo Sacchi. Battuto 1-0, gol di Roberto Bosco. Sarà primo posto, soprattutto, promozione in Serie A. Nuovo incrocio ad Arezzo, 18 anni dopo, sempre in B, 6 marzo 2005. Il Pescara di Gianni Simonelli, in patto 1-1. Nella ripresa, biancazzurri in 10, secondo giallo combinato dall'arbitro Rocchi a Luca Antonini. I toscani di Tardelli ne approfittano. Prodezza di Jonathan Spinesi, malgrado l'uomo in più il Pescara non ne morde. Tracciante di Garzon, nulla da fare per Pagotto. 9 ottobre 2005, altro pareggio 2-2 del Pescara targato Maurizio Sarri. Avanti l'Arezzo di Gustinetti con Luca Antonini, fresco ex. 1-1 di Luca Tognozzi, bravo e fortunato nel tapin dopo la respinta di Bressan. Nella ripresa, momentaneo sorpasso destro chirurgico di Carmine Gautieri. In pieno recupero però la beffa, il definitivo 2-2, siglato da Flor Flores. In Serie C, gli ultimi due precedenti in terra toscana. 24 febbraio 2008, l'Arezzo di Cuoghi prevale di misura. Decide l'ex chianese dal dischetto, ma il rigore è letteralmente regalato. Il peggio ad un minuto dall'epilogo. Conclusione di rara bellezza di Turchi. Traversa, palo e tapin in acrobazia di Fabio Ferraresi. L'arbitro russo di Milano annulla per motivi tuttora ignoti su segnalazione del primo assistente. Speranza di Mortara. Pescara, livido di rabbia, finisce così 1-0 per i toscani. L'ultima sfida ad Arezzo, 16 novembre 2008. Il Pescara di Galderisi la sblocca con l'argentino Lucas Simon, magistralmente ispirato da Simone Felci. Il pari, Aretino, porta invece la firma di Cavagna.